Il problema del randaggismo ad Agropoli è reale e presente ormai da tempo, ma le soluzioni per esso fino ad ora sono state zero. L'interesse dell'amministrazione Coppola per il disagio sembra essersi fermato il 5 dicembre 2017, quando si svolse presso l'Aula Consigliare del Comune un consiglio monotematico riguardante il randaggismo. Dopo il consiglio trapelava ottimismo con tante azioni promesse e con il sindaco che ai tempi affermava la sua volontà di operare nell'immediato riguardo la situazione. Si parlava anche di un'area di sgambatura per i propri animali, una spiaggia pet friendly, una pensione comunale e operazioni di microcippatura e controllo degli animali da parte dei vigili urbani, ma la carenza più grave è quella dell'ambulatorio veterinario pubblico necessario non solo per il randaggismo ma per tutti i proprietari di animali domestici in caso di emergenza. Ad ora l'amministrazione non ha mantenuto le tante promesse di cui si è parlato anni fa, contribuendo all'aggravarsi del disagio con cucciolate non controllate e situazioni emergenziali per i quattro zampe difficilmente gestibili. Necessario anche un canile per il quale i volontari agropolesi avevano dato piena disponibilità riguardo alla gestione di esso gratuitamente, però a quanto pare le procedure per la sua realizzazione sembrano essersi arenate. Una delle volontarie presenti nel Consiglio del 2017, Ilaria Procida quotidianamente porta avanti questa battaglia insieme ai tanti altri volontari, con appelli e denunce sui social, ma anche con azioni vere e proprie tramite l'associazione Amici a quattro zampe di Agropoli. Adesso però si attende un intervento deciso del comune agropolese in riduzione di un problema come il randaggismo troppo reale per essere ignorato.